grazie ok ci risiamo non riusci a passettare le twitch come loro ce l'abbiamo fatta allora come abbiamo visto la scorsa volta vediamo che cosa dice mi hanno detto che si devono vedere non è il solito locale se non sbaglio infatti i pciano sono attacchi d'aria bello mi piace questa cosa bellissimo prima che si veda tanto e non al solito mi hanno chiamato una lezione di il maestro di divertimento Non mi sento proprio comforzare quando abbiamo così tante altre cose che prendere. Listen up, questo non è solo un'escalante. Questo è un'escalante, essenzialo di salvare a te da un'immanente disastro. Disaster? C'è un limite per quanto puoi vivere in quanto sia così stifo. La più seri sei, la più grande la dame quando tutto viene a crescere. Quindi, non ti diciamo di totalmente cambiare, ma un pochettamento di poterciare un pochettere un pochettere davvero 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 bene. Allora, tu vieni, e credo che ho bisogno di un pochettere. Ok, è deciso, allora. Ti vedo tutti i miei miei posti in Sairon per aver divertito. Eh, aspettate un pochettere. Allora, prossimo, karaoke. Cosa, non mi chiede già? Sì, sono totalmente morto. Hai detto tutti i migliori locali, ma non credo che mi ritrovati all'interno. Oh, no. Siamo qui qui, allora. Grazie a Deusa. Sì, sei davvero diventato a questo. Ti piace la vita, eh? È perché è una cosa che non piace la vita. Sì, è vero. Sì, magari dovrei sapere come sei carefree, come sei. Beh, non è proprio essere carefree. E per essere completamente honesta con te, vita non è veramente tutto ciò che era. Quindi, io piace la vita di escapare la realtà. Credo dire che è un diverso che mi mi ricorda. Quando diceva così, mi sembrava sembrare che oggi è un wasteo di tempo. Sì, è vero. Ma non è una buona breaka? Mi sento un pochettato. Cosa significa che hai bisogno di escapare la realtà a volte. Especialmente qualcuno come te, che deve affrontare con molti problemi. Che problemi ti affronta, allora? È vero che hai cercato di escapare da qualcosa, anche. che hai bisogno di escapare. Non ho problemi. Sono solo il ragazzo che ti conosci e amo. È vero. È vero. Immigrare dalla Terra e vivere per 2,000 anni qui nella Terra ha dovuto essere un rollercoastero di vita. È sicuro che hai molti ricordi, sia buoni e buoni. Deve avere molti cose sui pensi. Allora, allora, enough di me già. Ci sono qui per rilassare il tuo stress di oggi. Voi, al prossimo. Ok. Ho scontato la questione. Probabilmente è sicuro di assumere che qualcosa è davvero affrontare lui. E non ho capito a immaginare quale vita ha vivuto. E non ho capito a pensare che sono le sentimenti veri. è pesante, lunga e infinita. Paranoica. Una volta che mi aspettavo qualcosa di più. Bit vibrare in una faccia. Non lo so mai. Intervade alle nostrery e giacchiate le estere sulle dimensioni. Moda quelle comandasse. Non significa fririti. No sai oppure tutte le zone. Non è buon, non permettere di momentsi. E' il vento legato, poi vediamo se ci sono dei regali da fare. Yui To, questo è perfetto, mi accompagni a me? Ma se la stanza canto. Siamo spettando le pesce? Se ne, non possiamo incontrare la Gemma? Mi piace di mantenere con noi due oggi. C'è qualcosa che voglio confermare con te. Eh, ok. Quindi, cosa vuoi confermare? Questo è come un testo di stanza canto. Non, non siamo qui per allenarci. Ma se la stanza canto. Ma se la stanza canto. Sì, è stato un giorno difficile. Hai senti che i ricercatori parlano di mio frate e me? Oh, beh... Oh, uh... Sì... Sì, hai detto a tutti che sei stato un ragazzo. Il tuo occhio cambiato quando hai guardato a me. Questo mi ha fatto credere che magari lo conosci. Oh... Sì... 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 Non so. E' stato inevitabile che ci trovassi. Sono curiosa, però... Cosa c'è stato necessario dire a tutti che tu eri uno? Sì... È un'accommodazione essere un ragazzo in questo mondo. Ho scoperto vedere come questo知識, essere pubblico, potrebbe aiutare. Beh... Non credo che nessuno di voi potrebbe portare a me diversamente solo perché ho detto che eri un ragazzo. E tutti reagirono proprio come pensavo. Mi ha fatto capire che c'è molto buono nella mia vita. Non credo che nessuno si trattava se ci hanno detto. Non credo. Luca... Non come te... Io ho vivuto con il risultato di essere un ragazzo. Posso essere un Septentrion... Ma mia potenza è stata improntata per esperimenti. Non ero con questo. Poi potrezzare un giorno. E quando questo succede, il pubblico mi avvicino. Questo è il risultato che ho sempre vivuto. Non posso solo cambiare e diventare libera come tu. Non importa cosa il pubblico pensa, tu ancora è Luca. Tu l'abbiamo combattato nel OSF durante tanto tempo. Tu lavoravi più difficile da qualcuno, e hai raggiunto molto. Questo non cambiare, non importa cosa le persone dicono. Tu eri forte. La tua fortuna sta nel fatto che puoi dire questo. Ma non sono come tu. O mio figlio. Non sono abbastanza forte per combattere contro la tarda. Luca... Questo è chi sono. Ma quanti anni hai che sei alto un metro in zucco di brutta? Non ti dicono a nessuno che io sono un dud. Ok. Mi prometto che non ti voglio. Grazie. E' tutto ciò che volevo dire. E' tutto ciò che volevo dire. E' andata ora. No. Non mi sono tante. No ti preoccupi. Siamo mantanassato la mia promessa. Si... Sai quando si tratta. Sì. Sò che... Sì. Sì. Sì... Hai raggiunto che non sia abbastanza. No... Gli dim 크� & ... Un'epoca. Sì. 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 C'è un po' di essere un membro dell'OSF? La realtà è diversa da mia ideale, ma c'è un po' che non poteva fare se non eravamo qui. C'è vero, tu hai deciso di essere partito di noi a tua propria wille. Mi rispetto a te, per vedere le realtà dell'OSF e rimanere insuaiati. Io vorrei parlare con te un po' di più, spero che ti senti la stessa forma. Certo, tu sai molti cose, quindi è divertente parlare con te. Adesso anche io ho la racchetta da squash. Così siamo... Uno, due, tre... E' quattro, davvero... Non ci sono altri messaggi qua, vero? Ah, così... Dite, non c'è bisogno che tu mi rispondi. Ah, simpatico, simpatico, vero, simpatico. Insomma... Andiamo da lei. Eh, quella innamorata di lei si è capito. Yuito, hai un momento? Sì, cosa è? Ma lei è innamorata di lui. Sì. 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 No, è solo i soletti. Beh, bella risposta. Allora, passiamo con te. Sì. Sì. Allora, adesso andiamo con te. Che? Ma... ... Eh, quella risposta. quindi siamo in missione con gli estrani non è in combattimento è sempre così caldo la stella che stiamo cercando è probabilmente più alto sì, ci dovremmo andare al summit questo clima non è un ambiente naturale ok, allora andiamo al summit so 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 allora accostiamo togliere questo andiamo se il microfono continua e e e e e e e No, no, lo scambia. Devo cambiare le cuffie, c'è poco da fare. Steffi, dove sono le tue cuffie? Le tue cuffie, perché le mie continuano... Niente, niente, tranquilli. Ciao, Ivan. Ah, già l'avevo fatta. Mi sa che sono le cuffie, sì. Quelle si possono buttare. No, mi servono queste... Mi servono quelle col filo. Eh beh, dai, poi... ... 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 Sì, tutti e tutti Vabbè Andiamo avanti Finalmente mi si sente bene Anche perché un po' di cuffie con il filo servono sempre If your body begins to burn with fire it'll drain your help so be careful Oh no! Oh no! Oh 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 ma perché fa così ogni volta no 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 come faccia quindi il suo potere se lei non c'ha? cosa? è stato un po' è stato un po' è stato un po' Questo è abbastanza raro. Questo è male. Veramente dai, basta. Grazie a tutti. Questa è qui dentro? Ah vabbè ma c'è l'altra giro che ci ha messo vento legame. Ok andiamo. C'è l'altra giro che c'è l'altra giro che c'è. Wow, sembra che sei proprio da l'altra giro. Quindi dove è? Proprio. Prendi. Oh no. Che? Che vedete? Un altro che si sta a camminare le pelle. Ci si fai. Noi. Oh, no. grazie ma perché è parte dove c'è algo ma perché non c'è un po' di più ma stavosi Grazie a tutti! ok 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 they were trampled they're almost all crushed if we had only found them sooner it looks like almost half of them are still fine to me i saw below the ground with my clairvoyance the stems are broken and the roots are twisted they're all hurt no way not even a single one survived some are just weak i think they'll recover it will take time though i see well at least we saved them from being completely wiped out but i don't know what to do i plan to bring the flowers back with me well they just wilt if you bring them down from the mountain like this with the right nutrients they'll be fine i've thought about how to cultivate them so i'm pretty confident but the environment i'd be growing them in would be harsh for them i'm not sure if it's the right thing to do actually you're such a kind person would you be opposed to the idea of just leaving these flowers here this is the best environment for them so they'll be healthy here but you like these flowers are you sure just the fact that i was able to see them blooming makes me happy and you worked hard for that to happen so what do you think i if the flowers are happy i i don't want to ruin that okay let's go then hey how come you wanted to bring the flowers back with you partesci monito oh it's a rare flower so i wanted to try to grow it myself so a little intellectual curiosity then i guess you're like a botanist when i grow a new plant it's like i get a new friend it makes me happy i see well now you have a long distance friend we should come visit the flowers again sure um and hmm was there another reason no it's nothing oh okay there's obviously another reason now i really want to know what it is but it's not like i can force her to tell me well mamma mia quanto è scemo we should get back to the hideout and get some rest thank you 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 Grazie a tutti. Chi sa perchè. No. Non è ancora finita. Vediamo cosa possiamo dare. Vediamo. Ma io ho visto che non piace a nessuno in particolare. Vediamo. 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 a te ma Ok Ok Un sacco di cose per lei Mi sapevo qui che tutti può mettere racconti per ragazzi Il titolo a fare riferimento a pubblico e femminile Mi ha detto anche da ragazzi, uomini e adulti Mi ha detto anche una rubrica dedicata ai consigli E curata dall'editore Ok Oh, grazie Voila Daccela Un po' di libri antiche Un po' di libri antiche Che a lei piace questa cosa Oh, grazie Oh, grazie Che potresti provare Essenzione effetto S.S. Ok Ok I know how you feel I hope you know how I feel too Veramente Veramente Oh, grazie Oh, grazie A Oh, grazie Oh, grazie Oh, grazie vediamo se dov'è lei ma vedi ci sono cose che puoi regalare soltanto a quel personaggio olio e' contento ma quando e' che l'avrei fatto io dai no scattiva rosa risotto 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 sono Ah, non grazie. Grazie. Infatti. Ok. Ok. Allora. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Da lui c'era qualcosa che potremmo regalare ancora. Questi ancora gliel'abbiamo regalati. Ok. Sono gratuito. Questo gliel'abbiamo regalato che era contento dai. Ok. Ti sapete che ti sapete. questo è quello che significa confiarci al l'altro sì, confiarci a te per avere la mia volta sì, ce l'avevo guardati, quindi allora fatto questo anche questa fase d'attesa è completata possiamo salvare salutarci e alla prossima per la fase 9 alla prossima, ciao ciao